Si complica la situazione dell'epidemia da coronavirus in Sicilia, si continua a registrare un altissimo numero di positivi su 8.736 tamponi processati, ieri erano 1.733 i nuovi contagiati. Una percentuale che sfiora il 20% e che ha fatto scattare l'allarme rosso già in tre nuovi comuni, tra i quali Messina, che da oggi è stata dichiarata zona rossa insieme a Ramacca e Castelliudica. Questo potrebbe essere il preludio di una zona rossa estesa a tutta l'isola, chiesta a gran voce anche dal presidente dell'Anci Sicilia, L'Oluco Orlando, che vorrebbe fosse anticipata l'assegnazione del colore all'isola prevista nel prossimo DPCM del 15 gennaio, per ciò che concerne i capoluoghi di provincia dove da oltre una settimana i numeri crescono in modo esponenziale. Siamo di fronte al dilagare dell'epidemia, spinto anche da comportamenti irresponsabili di tanti, ha iniziato a spiegare L'Oluco Orlando, che ha continuato Oggi si è registrato un ulteriore aumento dei contagi e, fatto ancora più preoccupante, un indice di positività che sfiora il 20% con gli ospedali e pronto soccorso prossimi alla saturazione. Prima che sia troppo tardi, prima che si continuano in Sicilia migliaia di morti, torno a chiedere al Governo nazionale di dichiarare la nostra regione zona rossa, individuando le necessarie misure per sostenere economicamente chi sarà inevitabilmente danneggiato. In attesa che questo avvenga, chiedo al Presidente Musumeci di provvedere a dichiarare zone rosse e tutti i capoluoghi, che sono quelli più esposti, come dimostrano i dati di Catania, Messina, Palermo e Siracusa. Il dettaglio della curva epidemiologica in Sicilia ieri ha fatto registrare 8.736 tamponi processati, con 1.733 nuovi positivi. Un incremento nei ricoveri ordinari nei reparti Covid di 12 unità, un numero che porta 1.473 idegenti a causa dell'epidemia, dei quali 208 in terapia intensiva, numero che ha visto un aumento di ulteriori 3 unità, 33 nuovi decessi in Sicilia e 592 i guariti. Resta Catania la città con il più alto incremento di positivi giornalieri, ieri più 460, seguita da Palermo con più 449 e Messina con un aumento di 287 positivi. Anche Siracusa ha visto un'impennata di contagi, con 201 nuovi positivi. Restano alti anche i nuovi contagiati a Trapani, più 130.